La Biblioteca Civica di Cosenza, come non l'avete mai vista, un vero e proprio cantiere, un cantiere in cui ci sono scatole di cartone perché i volumi devono essere restaurati, quindi saranno portati all'esterno di questo antico istituto di cultura per trovare nuova vita. Verranno portati in parte all'archivio di Stato di Cosenza dove continuerà anche un altro lavoro di verifica e poi la Biblioteca Nazionale, una parte rimarrà in una zona, allocati sempre qui dentro, che non verrà interessata dal CIS, poi inizierà un lavoro di restauro ad opera della soprintendenza archivistica e libraria su alcune pergamene, su alcuni fondi come quello di Pietà e su altri testi. Una parte della digitalizzazione già in opera qui dentro poi continuerà nelle sedi in cui verrà ricoverato per un anno, è la prima volta che avviene. La delicatezza delle pagine trattate con i guanti dagli esperti raccontano storie sconosciute, quale quella di Umberto Ranieri Cosentino, segretario del ministro Giovanni Gentile, nome legato alla riforma della pubblica istruzione nel secolo breve. Era il 1923, più di cento anni fa, scritti lo stesso edificio storico, patrimonio identitario della città Abruzia, interessati da lavori per un importo di 5 milioni di euro, investimento del comune grazie ai fondi CIS. Noi riusciamo sia a migliorare sismicamente l'edificio, sia a migliorarlo, efficientarlo a livello energetico e quindi garantire appunto la salubrità dei luoghi sia per i libri che per l'utenza futura. E naturalmente abbiamo anche collaborato in parte al restauro, alla messa in sicurezza del patrimonio librario che è qui contenuto, per cui riaprirà a dicembre 2025 uno dei poli culturali più importanti, se non il più importante di Cosenza Vecchia del centro storico. Il futuro però è da costruire nonostante tutto perché sull'antico istituto di cultura grava un debito pesante, circa un milione di euro, ma la via d'uscita potrebbe essere pubblico privata. C'è l'Accademia, CDA, c'è provincia comune, c'è un'interlocuzione da tempo con il ministero, con le soprintendenze e anche col segretariato, e anche la possibilità con delle realtà territoriali, private, che ci hanno fatto avere questa generosa offerta da vagliare evidentemente da parte nostra e da parte loro. Grazie. Grazie.